In pieno dibattito televisivo, sei candidati lasciano lo studio per protesta. È successo in Slovenia, durante l'ultimo confronto politico prima dell'elezione di domenica. È la conclusione di una campagna attesa e ricca di polemiche, un'uscita di scena teatrale che sintetizza il quadro politico sloveno, estremamente polarizzato. Alcuni pensano di essere fatti per stare al potere e considerano gli altri come di seconda classe. Credono che tutti i fondi debbano essere dati a Ljubljana e che i cittadini della capitale debbano avere più diritti degli altri. Ma tutti gli sloveni hanno voce in capitolo e li invito a farsi sentire alle urne. Il voto di domenica assomiglia sempre più a un referendum sul controverso premier conservatore Janets Janza, in corsa per un quarto mandato. Alleato dell'ungherese Orban e del serbo Vucic, Janza ha portato la Slovenia sempre più vicino al fronte sovranista europeo. Secondo i sondaggi sarà dunque un testa a testa tra il partito democratico di Janza e la neonata formazione liberale di Robert Golub, un ex top manager di aziende pubbliche.